Qui abbiamo i due finalisti della New Roller for Cia nel giro a cronometro, Valadio Alessandro Fusiolla che ci sono stati subito davanti, qui abbiamo Fusiolla e Bannai, il tunnel liberato loro, ieri secolio nel giro ad altri contraposti, da Manuel e la Fusiolla, Fusiolla suona la campana, come all'interno Bertolo e ce la fa, ce la fa, Francesco Bertolo e quindi sono i due della New Roller for Cia, Alessandro Fusiolla super tranquillo e Francesco Bertolo for Cia for Cia, flash me la sorda, quindi qui tango a contrapancia per due posti in finale, Marquezzi, primo e secondo poi, scassellati, Felix, un po' più staccato, il Felix sono entrati un po' forti quando suona la campana, due posti in finale, l'epoca Marquezzi scassellati, Vittorio! Alessandro Pugnol, Bertolo in seconda posizione, sono i due, incrocia tutta la curva, Lepopin riesce a incrociare tutta la curva e va a controllare su Bertolo, quando Uretti Vino, Uretti Vino è suona la campana, Pugnol, Lepopin, Bertolo e Marchetti, questo nell'ordine, riesce a incrociare più di alto, Lepopin, questo in pista è importantissimo, prova a passare Marchetti all'interno, Alessandro, Alessandro Pugnol, poi ufficiosamente, Lepopin e Marchetti, ufficiosamente.